Ad est la contestazione fu fatta nel nome della patria e della libertà e il principale martire di quella forma di contestazione fu Jan Palak. Jan Palak fu in effetti un mito che in qualche modo collegò sia la destra ribelle sia la destra conservatrice perché fu la rappresentazione di una figura, di un giovane, di un ventenne, di un ragazzo che sfidò i carri armati sovietici a Praga e che cantò in qualche modo l'inno della contestazione nel nome di un movimento che si chiamava appunto Patria e Libertà, cioè indipendenza nazionale da una parte e quindi richiamo alle proprie radici e tradizioni nazionali, tutto il contrario di quello che pensavano i 68 in Italia, e Libertà, Libertà di ospressione, Libertà di opinione, Libertà. Ecco, quello fu l'unico punto di contatto tra le due destre. Il resto invece di quel mondo visse il 68 con lo spirito del contrappasso, cioè crebbe, si rafforzò, si unificò proprio nel nome dell'anti-68. In quegli anni prese corpo, per esempio in Italia, quella che fu definita la maggioranza silenziosa, che in America era la moral majority, cioè quella maggioranza morale rappresentata da un'area di opinione conservatrice, silenziosa, taciturna, ma abbastanza irritata con il dominio culturale prevalente del proprio tempo. E quindi prese corpo questo mondo, diciamo, conservatore che si manifestò in vario modo. In quegli anni nacquero anche previste pubblicazioni, casi editrici, che dettero vita a una specie di controcanto del 68. Tra questi autori mi piace ricordarne uno, solo perché è un'occasione particolare. Giovannino Guareschi, che non era un grande intellettuale, ma era un grande scrittore, era un grande narratore tradotto nel mondo, uno dei più tradotti tra gli autori italiani, ecco, non fece in tempo a vedere tutti gli effetti del 68, perché morì esattamente nel luglio di 50 anni fa, il 22 luglio, ma fece in tempo a scrivere un libro su Don Camillo e i giovani d'oggi, che era un po' una contestazione dei contestatori, nel nome della tradizione, nel nome del mondo piccolo a cui lui faceva riferimento. La saga di Don Camillo e Peppone era appunto la saga del mondo piccolo, i contestatori invece facevano in qualche modo irruzione in un mondo globale, in un mondo grande, sterminato, sconfinato. E invece lui difendeva il mondo del paese, il mondo delle tradizioni, il mondo in cui c'era sì conflitto tra il comunista Peppone e il cattolico prete Don Camillo, ma c'era anche una consonanza di fondo su alcuni temi, come dire, paesaggistici di comportamento, di passione, di etica, di amore di famiglia e così via. E quindi Guareschi denunciò in quel libro proprio l'irruzione del 68.